ah io attole mongoloide di mongolia e io son nico eh? mi conoscete tutti no? thomas milian e thomas milian si un film con un doppio thomas milian per un doppio divertimento delitto al ristorante cinese ah tu perdele molto? co per se ho giocato a scopetta ho perso due piotte tu perdele due piotte e un cadavere ma gli ha spiegazioni, gli ha spiegazioni, questo non camicia niente che ci posso fare io? non sa che potresti fare, ti potresti fare un bel crisiare di ceramica così diventi un bel cesso del russo ah fangulo, so tre ore che è pronto sto piatto, ah fangulo ah fangulo tu è sorda, ti ho detto tante volte che tu nella sala non devi entrare, hai capito? che non sei cinese, la gente se no non ci crede che questa è una cucina cinese si credene che mangia la roba della scatoletta perché te sei cinese? chiesa zicche, io sono napoletano non ti muovo e rivoltati come faccio a portarmi se mi posso muovere? non sottilizziamo eh ah 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 ah, vedi questo? ma dove salti fuori di dare la rinascente? sta attento tu che io sono un agente della zia la zia di chi? della zia di nessuno zia, corpo italiano, agenti vigilanti privati ah ah ah, quant'ha detto avele? 10 tu hai sbagliato, essa le 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 E l'altro dito andate a finire Pau, ma che mi stai a piangire? Ma com'è vostra moglie nervosa? Sarà che con la gamba mannata in bianco? Ma che stai a dire ieri sera? Ma che dite? Ve ne siete fatte se? Hai capito? Una, quasi quasi ce la facevo Facciamo, piccolo indovinello Se tu perdere, tu vai a prendere molto E se io perdere, io vado a prendere molto Va bene Quante dita ci sono nella mani? Nove Allora chi era il morto? Un certo Papetti che abitava qui L'autopsia ha dimostrato che è morto per avvelenamento d'arsenico Dopo aver ingerito cibi cinesi Tu fai la collezione dei franco bolli E io ti do una collezione dei schiaffi se non mi dici la verità Io non so un cazzo Non di parolaccia a Bombolo che ho fatto il voto Ma il voto ha fatto il volo che ho fatto io Ma come se uno smettia di fumare e tu gli fumi in faccia a Bombolino Ma come ho fatto? E ho chiuso tutto Se ti dico che prima faceva il ladro E ora faccia il poliziotto Ma tu puoi immaginare a te come ho fatto il ladro? Il poliziotto E che volete da me? Portate in carriera Ma io non certo niente Aiuto Sono il metro del Taitung So quello che è successo ma non è colpa mia perché io non c'era Io mi chiamo Vincenzo Quagliarula Agli ordini Facciamo un bel tavolo per lei e la signora Sì ma prima fammi vedere il coso lei Il tavolo non è morto Papetti senza che nessuno se ne renda conto Va bene Nessuno se ne deve accorgere Andiamo su andiamo via Lasciatemi là Lasciate il tavolo mi serve C'è la polizia roba segreta Via Gargiulo La polizia roba segreta Il ristorante cinese è un film Capito? E poi c'è sto io Non so se mi spiego